Ciao a tutti ragazzi, io sono Dorian B e oggi stiamo in un nuovo gameplay di un gioco che ho inventato io Come voi sapete i giochi che faccio io non sono normali, sono pazzi, cioè sono diversi da tutti gli altri Ma bando alle ciance vi faccio vedere la copertina di Bastardo Dorian o Dorian Bastardo E ragazzi, io non scherzo quando vi dico che questi giochi esistono davvero Ma andiamo avanti e cominciamo con il gioco perché non vedo l'ora di vedere come si gioca Ah, a proposito, io su questo gioco ci ho fatto già una recensione e una canzone e i link di entrambi i video li trovate in descrizione Ho fatto anche la rima Andiamo avanti Recupera il superstite e portolo fuori dalla foresta dei coglioni volanti Ma nulla di più semplice ragazzi, nulla di più semplice A parte il caricamento Ed ecco, ed ecco che siamo qui giunti Questa è la presentazione ragazzi, guardate che figa la presentazione Ma questa persona mi assomiglia a qualcuno Oh guarda c'è una D, una D, che sarebbe quella D Ma forse sta per Dorian B No scherzo ragazzi, no a parte scherzo Questa persona mi assomiglia a qualcuno Guardate in faccia A voi mi assomiglia a qualcuno questa persona? Ma comunque dai, andiamo avanti Vediamoci la presentazione ragazzi perché non vi voglio fare perdere tutto quanto il bello della presentazione Yeah, yeah frate, yeah, yeah Yeah sulle mani, yeah, yeah Missione 1, Dorian B contro i coglioni volanti raga Contro i coglioni volanti Raga Ok scappiamo, scappiamo Cominciamo a scappare ragazzi perché quanto vedo non ho le armi ragazzi Mi devo andare a nascondere al più presto Mi metto dietro quest'albero Vediamo un attimo se riesco a seminarsi col cazzo Col cazzo Ragazzi perché stiamo parlando di coglioni volanti Quindi col cazzo ragazzi Cerco di scappare perché questo qui mi ha sgamato all'improvviso Corridorio e c'è il nemesis, merda Ragazzi mi sto sembrando Corridorio e c'è il nemesis Corridorio e c'è il nemesis, merda Conti può correre il nemesis, cazzo Corridorio e c'è il nemesis, cazzo Corridorio e c'è il nemesis, cazzo Pollice in su per il stupertile Round 2 raga Ecco che siamo arrivati dentro una specie di caverna Una casa diroccata ragazzi Però mi sa che mi sono bloccato Perché lo sapevo che me l'ho bloccato Vaffanculo C'è un coglione volante, devo scappare E quello è da quella parte quindi me ne devo andare dall'altra parte Ragazzi mettete il pollice in su per i coglioni volanti Se vi piacciono come sono fatti i coglioni volanti Minchia raga Stavo per cadere Andiamo dall'altro lato che forse mi sa che è meglio dall'altro lato Perché qui mi sa che è un po' altino per i miei gusti Ragazzi devo scappare con il coglione volante Succa 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 coglione volante dei miei coglioni Vabbè comunque andiamo avanti Ragazzi mettete il pollice in su per come sono scappato dal coglione volante Round 3 raga Dai che ce la stiamo facendo Finora non ho trovato nemmeno un'arma Non ho trovato un cazzo raga Però sto solamente scappando attualmente raga C'è questa foresta che è piena di coglioni volanti I sui pestiti l'abbiamo trovato Ma non abbiamo trovato un'arma per uccidere questi coglioni volanti E ragazzi mi sa che non troviamo un'arma Qui al più presto i coglioni volanti ci fanno a cappello di parrino E la 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 machine gun Heavy machine gun No vabbè fate scherzo devo prendere la pistola Level up Ho superato il livello? E ho preso anche la pistola Un limited gun Grande 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 Yeah Ok raga il tempo che mi sistemo un pochettino E posso usare la unlimited gun Questo significa che c'ha i proiettili limitati Ragazzi questo gioco mi sta piacendo alquanto Mettete un pollice in su per la pistola Un limited gun E si parte Adesso vi fracasso il culo Quando parte il beat vi fracasso il culo Vi fracasso quando parte il beat E vai Grande Sì 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 che ti rompo il culo Sì e vai fuori uno Dai ricarica Andiamo vai Ragazzi mi sento Ma 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 altro che call of duty raga Altro che call of duty Vi rompo il culo Vi rompo Vi rompo il culo Altro che doom Vi rompo il culo Cazzo Qua c'è un altro Qua c'è un altro Qua vi rompo il culo Ti rompo Sì E un altro Via Ragazzi sono tutti quanti colorati Mi sa che mi danno punti diversi Ma sa il colore Li sto frantumando tutti Ragazzi Ragazzi Mi sento terminato Mi sento Che cazzo di faccia Vivo morto Tu verrai con me I miei amici mi chiamano Dorian Tu chiamami Robocop Bastardi Bastardi Vi rompo il culo Ok Va bene sì va bene Lo so dove dobbiamo andare A scappella Ehi là Per un pelo non ti hanno preso Devi stare dietro di me Sennò ti rompo il culo qui Sono l'unico che ha un'arma Quindi ti devo proteggere io Quando sono con l'arma Si cagano addosso Quando sono con l'arma Si cagano addosso Perché li posso distruggere Yeah E un altro Via Ragazzi vi riempio questa foresta Piena di lapidi Le lapidi dei coglioni volanti Sì ma devi stare dietro di me Tu cazzo Perché ti ammazzano Non lo vedi che ti ammazzano Stai dietro di me Superstite Come cazzo hai fatto A rimanere superstite Visto che stai sempre in mezzo Ai coglioni volanti Come mai non ti hanno ammazzato prima Io non lo so Eh vabbè dai Minchia Eh che cazzo Minchia Ma quando cazzo Mi stanno spuntando raga Mi sa che mi Stavo ammazzato Tutti quelli che mi hanno eseguito poco fa Freccia Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Ok Un cinematic Questo è il mio Che stanno facendo Che cazzo Che cazzo Che cazzo è successo Cioè raga Il mio personaggio Ha ucciso Ha ucciso Il superstite Vabbè Ma ora lo so Perché si chiama Dorian Bastardo Ho capito raga Comunque va bene Questo gameplay Ve lo concludo qua E se vi piace Questo gioco Io vi posso fare Altri gameplay Con altre missioni Così vediamo Come procede Perché questa è solamente La missione 1 Ovvero Dorian B Contro i coglioni volanti Beh se vi piace Fatemelo sapere nei commenti Mettete un pollice in su E non ve lo dimenticate E come al solito Il volume Wei raga Wei raga E se non siete ancora iscritti Al mio canale Iscrivetevi al mio canale Mettete mi piace Condividete Commentate E guardatevi questi video qua E in descrizione A questo video Come in ogni altro mio video Trovate i link Del mio profilo facebook La mia pagina di facebook La mia pagina di google plus E il mio profilo twitter Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi al mio canale